Sono molto molto contento perché alla fine abbiamo potuto fare una gara molto molto buona e siamo tutti una squadra che vuole fare bene, l'abbiamo fatto bene oggi. Penso che questa è la strada giusta, spero poter continuare a allenarmi così con la testa bassa e continuare a segnare che è quello che mi piace. Sì, sì, questo è il vero Pescara, una squadra che non mola mai, non ha molato mai, non ha molato nessun centimetro. Quindi credo che questa è la strada giusta, oggi tutti abbiamo fatto una bellissima partita e spero che la squadra continui ad avere la stessa testa che abbiamo avuto oggi. Ovviamente l'anno scorso ho avuto tanti problemi rispetto alla parte tecnica, ogni giorno provo a allenarmi, provo a migliorare la parte tecnica, il controllo, il attacco alla porta e penso che grazie ad allenamenti ogni giorno sto migliorando. Grazie a tutti.